Continuiamo con un argomento allo stesso modo importante perché parliamo dei Senza Fissa Divora, parliamo di Palazzo Fuga, una storica struttura del 1800 che sorge in Piazza Carlo III, si sta parlando di dedicare questa struttura appunto a clochar, a persone indigenti. Naturalmente questa iniziativa ha suscitato il clamore del popolo, ha suscitato manifestazioni di protesta, per cui ne andiamo a parlare subito con un protagonista di questo evento, che è Armando Coppola, ex Presidente della Quarta Municipalità e Presidente dell'Associazione Napoli in Sinergia. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori. Allora, partiamo da questa notizia. Popolo in rivolta, questa struttura verrà in effetti poi dedicata ai Senza Fissa Dimora, che cosa sta succedendo in questo quartiere? Attualmente l'amministrazione dei magistris ha questo orientamento, infatti è stata fatta una riunione con l'assessore Gaeta che ha ribadito che l'orientamento dell'amministrazione dei magistris è dedicare una parte del reale albergo dei poveri ai Senza Fissa Dimora. Ovviamente la mia associazione Napoli in Sinergia e tutte le serie di associazioni di cittadini e quartiere siamo contrari a questa scelta. Lei ha detto che risale al 1800, nasceva come albergo dei poveri quando Piazza Calotezzo era a periferia di Napoli capitale, Piazza Calotezzo è parte integrante del centro storico di Napoli e avere questa concentrazione di Senza Fissa Dimora non ha proprio il senso storico, oltre che sociale. Per avere un'integrazione dei Senza Fissa Dimora la cosa migliore sarebbe quella di distribuire, che si parla di 140 persone, poi bisogna andare a turnazione perché si parla di odierna, cioè di diurna, nel senso vanno là per lavarsi, mangiare, quotidiana, non credo che questa sia la cosa giusta, la soluzione, qual è la soluzione secondo lei? La soluzione migliore è per quanto riguarda i Senza Fissa Dimora dare i soldi alle case famiglie, distribuire quindi Senza Fissa Dimora sul territorio perché 140 persone in un luogo creano un problema, 14 persone in un luogo non si vedono e non si sentono, tra l'altro questo colpisce anche la dignità di chi in quel momento è Senza Fissa Dimora. Intanto questo Senza Dimora e Senza Tetto è un argomento molto delicato perché è comunque storia saputa che vogliamo dire anche al nostro pubblico di alcuni che ci sono subiscono dei maltrattamenti, delle violenze come quello della clochard tiziana, ecco come ci si può muovere? Questo è proprio il problema per il fatto che il Comune di Napoli non stanzia soldi per le case famiglie perché se le case famiglie avessero i soldi i Senza Fissa Dimora potrebbero essere messi in queste case famiglie quindi anche la notte, quindi il problema è la soluzione c'è e dare soldi a queste case famiglie, avere invece un centro di urno e poi avere Tiziana si chiama questa, questa clochard che viene brutalizzata da ragazzi e quindi tra l'altro non è neanche di una città civile, basta andare alla Galliera Umberto ma basta andare anche a via Morelli e siamo nel centro nella Napoli bene ed è deprecabile. Tra l'altro riteniamo che il realbergo dei poveri possa avere invece un tutt'altra destinazione che può essere quella universitaria, museale. Quando ero presidente della municipalità insieme ad Aldo Loris Rossi, architetto molto noto, noi ipotizzavamo un quadrilatero museale perché abbiamo Capodimonte, Museo Nazionale, Museo Madre, il realbergo dei poveri poteva essere altro museo, penso tipo il British Museum che è altra Farga Square, le soluzioni sono tantissime, enti regionali, comunali, il comune paga tanti fitti passivi. Quello potrebbe essere un ottimo contenitore. Perfetto, grazie allora ad Armando Coppola, ex presidente della quarta municipalità di Napoli e presidente attuale invece dell'associazione Napoli in sinergia per essere stato con noi. Speriamo che queste derive anche dei residenti non sfoccino comunque in violenza come è spesso accaduto anche nella zona del centro storico per altre vicende. Guardi, credo che quando c'è il buonsenso non si arriva mai alla violenza, la violenza è sempre deprecabile, però è sempre meglio in una situazione di degrado dove il cittadino vive di persino, in una situazione di degrado non vede un proprio futuro per se stesso e per i propri figli, c'è anche una grossa crisi occupazionale, gente che non arriva a fine mese, questo crea una grossa disperazione per cui se ci metti qualche altra cosa nel contenitore poi l'amice si può accendere. Ritorneremo sicuramente sull'argomento. Adesso pubblicità, grazie e restate con Mattina 9 dopo CESCE e FERIO.